Presidente, oggi parliamo di programmazione e risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Che cosa ha immerso da questo incontro? Ma che dobbiamo spingere sempre di più i destinatari delle singole misure per fare in modo che presto comincino i cantieri, come dico io, con le tute degli operai sporcate di cemento. Oggi abbiamo fatto un monitoraggio stringente su ciascuno dei responsabili di linea i quali gestiscono i flussi finanzianti nei confronti dei destinatari di finanziamenti e di risorse che sono prevalentemente comuni. Dobbiamo fare in modo che ci sia adesso un allineamento, una coerenza temporale e documentale tra i comuni destinatari delle risorse e i progetti per attivare le procedure di scelta del contraente cioè l'aggiudicatario che poi comincia le operazioni di realizzazione. Con questa riunione abbiamo fissato un timing, entro i primi di giugno noi dobbiamo conoscere tutte le progettazioni. Quali sono i settori interessati da questi fondi? Beni culturali, infrastrutturazione sportiva dei nostri comuni, sentieristica montana, opere destinate anche alle ciclovie, al cicloturismo, bonifiche. Sono interventi a vario titolo che fanno bene al territorio, alla natura, all'ambiente e anche all'economia. L'idea è buona.